ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi decorazione obonici per la settimana dal 24 di febbraio al primo di marzo quindi stiamo già passati nel mese di marzo cioè veramente febbraio è andato e questa settimana utilizzerò appunto questo kit obonici un po' a tema floreale perché appunto ci avviciniamo alla primavera già dal clima si sta molto meglio e sembra già quasi un clima primaverile quindi inizio subito applicando gli stickers grazie a tutti grazie a tutti bene ragazzi questa è la mia decorazione per questa settimana molto semplice e che richiamo un po' la primavera fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate lasciatemi tanti pollici in su iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti attivando la campanella io vi ringrazio ancora per avermi seguito vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao